Barbie, Chanel Cleaver, la nostra fantastica leader, il genio dell'etichetta, una vera esperta della musica, non trilla! Credo che abbiano capito Pandora. Prego, accomodatevi, è un'emozione vedervi di persona. Appena ho sentito la vostra musica ho deciso che dovevate far parte della nostra grande famiglia. La squadra ha già steso un piano per far conoscere i vostri nomi ovunque in giro per il mondo, il tutto in tempo zero. La prima cosa da fare è andare il più in fretta possibile in studio a registrare il primo album di lancio e niente paura, ho già chiamato la miglior produttrice del settore e i musicisti migliori che si possano trovare. Il budget non è un problema. Sai che significa? Che non dovremmo più preoccuparci dei costi delle sale di registrazione. Esatto e questo è soltanto l'inizio. Dopo la pubblicazione del vostro primo singolo inizieremo a parlare del tour mondiale. Avremo degli stadi con il tutto esaurito, interviste esclusive, videoclip delle canzoni su tutti gli schermi. Se firmerete i vostri pezzi diventeranno dei successi e voi due sarete delle grandi star. Allora siete d'accordo? Certo!